Giulio, allora ascolta. Aspetta, fatti vedere. Finalmente, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, dai. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ah dai, stiamo contento. Stiamo lavorando duro e oggi è venuta una scompita, però per quello che stiamo facendo è stato importante. Comunque, l'aver giocato tutti, l'aver messo in campo ognuno quello che ha. Quindi è stato importante questo. Mi sa che sta arrivando l'anno più importante della carriera di Giulio Sabia. Sì, sì, sì. Questo sarà un anno per me importante, però prima sono bello concentrato con questa maglia addosso e poi dopo, quando cadrà l'ultima palla, ci concentriamo con l'altra maglia. Rivediamola perché, sai, è una bella maglia. Ti si addice, ti si addice. Ascolta, ma chi gioca? Chi gioca? Non lo so. Allora, a parte gli scherzi, penso che Vetto comunque sta facendo una bella preparazione. No, ti stiamo allenando tutti bene. Come abbiamo visto siamo un po' affaticati, è normale che sia così, però siamo molto fiduciosi. Andiamo gli europei per? Vinciano la medaglia, lo dico io. Per fare sempre bene e migliorare quello che abbiamo fatto due anni qua. O metti di informare perché sai che a Modena è impegnativo, eh? Eh, lo so, lo so. Bocca al lupo? Prefi, ciao. Ciao. grazie